Il PD ha fatto l'ennesima iniziativa di legge che favorisce gli stranieri, una legge che riguarda lo sport. Noi in quella legge abbiamo chiesto una correzione, abbiamo chiesto di inserire una quota limite per quanto riguarda le società di sport, che fanno sport semiprofessionistiche e professionistiche del 70% almeno di professionisti e semiprofessionisti italiani, di atleti italiani. Questo ci consentirebbe di tutelare i nostri vivai, di far sognare i nostri ragazzi, di farli continuare nell'attività sportiva e di non creare e di finire perlomeno questo merchandising e compravendita continua e commerciale di atleti, giocatori e calciatori e di favorire finalmente i nostri ragazzi. È una cosa dove purtroppo abbiamo creduto solo noi, visto che solo noi abbiamo proposto questa cosa e solo noi l'abbiamo votata. Tutto il resto del Parlamento è contro, favorendo ancora una volta la trasformazione dello sport in un business economico. Grazie a tutti.